L'emergenza coronavirus sta mettendo letteralmente in ginocchio l'intero sistema scolastico nazionale. Nella serata di sabato il governo ha approvato un decreto legge per dichiarare l'emergenza e per autorizzare governatori regionali e sindaci ad assumere tutte le iniziative ritenute necessarie in fatto di servizio scolastico. La giornata di domenica così è stata a dir poco difficile. In mattinata è arrivata la notizia che il sindaco di Milano era intenzionato a chiudere tutte le scuole della città ma dopo un'ora è stato il governatore della regione ad annunciare la chiusura valida in tutta la Lombardia. A quel punto le notizie si sono succedute con regolarità. Poco dopo la chiusura è stata disposta anche in Veneto, poi in Piemonte, quindi in Friuli Venezia Giulia, nel tardo pomeriggio anche in Emilia Romagna e in Liguria. In Trentino Alto Adige le scuole sono chiuse per le vacanze di carnevale come peraltro in altre regioni e la decisione sul da farsi è attesa da un momento all'altro. A conti fatti, a partire da oggi, lunedì e per tutta la settimana, poco meno di 4 milioni di studenti sono in vacanza forzata e con loro 400 mila docenti. Per quanto riguarda il personale ATA si tratta di capire se le ordinanze regionali parlano di sospensione delle attività didattiche o di chiusura delle scuole. In questo secondo caso anche gli ATA staranno a casa, mentre nella prima ipotesi solo i docenti e gli studenti potranno assentarsi. E infatti CISL Scuola ha chiesto che il provvedimento sia di chiusura delle scuole e sia anche uniforme su tutto il territorio nazionale. In proposito è bene precisare che comunque il personale che non presterà servizio non sarà tenuto a nessuna forma di recupero. Ma ci sono questioni sulle quali la ministra Azzolina dovrà fornire qualche indicazione. Per esempio non è chiaro come sarà gestita la sospensione delle gite scolastiche e dei viaggi di istruzione decisa dal MIUR con il decreto legge varato sabato sera. Le scuole che hanno già sottoscritto accordi o contratti con agenzie di viaggio dovranno pagare delle penali? E se sì con quali risorse? Il ministero stanzierà un fondo? Intanto anche il ministero della salute raccomanda alle scuole di posizionare appogiti distributori di gel alcolici per garantire una adeguata igiene delle mani, considerata da tutti gli esperti come una misura di prevenzione decisiva. Anche in questo caso le scuole, soprattutto quelle articolate in moltiplessi, si stanno già chiedendo con quali soldi si potrà dare risposta ad una legittima e doverosa misura. La situazione è in continua evoluzione come potete facilmente immaginare e quindi è bene tenersi aggiornati sugli sviluppi sia a livello nazionale sia a livello locale. Noi ovviamente continueremo ad occuparcene, quindi seguiteci su questo canale e anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it Mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come sempre.